Buongiorno a tutti e buon inizio di settimana. Beh, oddio, inizio, già è iniziata ieri, oggi è martedì, 8 novembre 2021, anzi, scusate, 9 novembre 2021. Gloria a Dio il Signore ti benedica e il Signore possa fare di te un potente strumento nelle sue mani. Gloria al Signore. Scusatemi se ogni tanto mi faccio degli errori, ma può capitare, ecco, è importante che siamo pronti per ascoltare il messaggio della parola di Dio, che questa mattina ce lo porterà nuovamente il fratello Giuseppe Bernagallo, da Francofonte, della chiesa Adi di Francofonte, che condividerà con noi il calendario cristiano e poi il messaggio che Dio metterà nel suo cuore. Quindi apriamo i nostri cuori, apriamo le nostre orecchie e diciamo, Signore, parla al mio cuore perché ho bisogno. Nel nome di Gesù, Amen. Dio ci benedica. Buongiorno, grazie a tutti, ringrazio il mio Signore di avermi dato di nuovo anche oggi la possibilità di poter meditare con voi la sua benedetta parola. Lo ringrazio ancora tantissimo e che possa usarsi di ognuno di noi nel modo di come Lui già ha prefissato per ognuno di noi. Dio vi benedica. Dice così la scrittura La parola del nostro Dio dura per sempre. Isaia, capitolo 40, versetto 8 L'anima mia avvilita nella polvere, ravvivami secondo la tua parola. Salmo 119, versetto 25 Il titolo della meditazione di oggi è La tua parola mi fa vivere E lo troviamo sempre nel Salmo 119, versetto 50 La Bibbia dedica un intero Salmo all'illustrazione del posto che la parola di Dio deve avere nella nostra vita E il Salmo 119, il più lungo della Bibbia, è una preghiera La maggior parte dei suoi 176 versetti menziona la scrittura con nomi differenti Vale la pena leggerlo con attenzione La parola di Dio è ciò che mantiene viva la nostra comunione con Dio Che il Dio d'amore, il Dio vivente, il vero e suo messaggio si rivolge a tutti Indipendentemente dall'età, dalle condizioni spirituali di ognuno Questo Salmo ci invita a radicare la parola divina nel profondo del nostro cuore E a memorizzare dei testi appropriati Che saranno le nostre armi Per il giorno malvagio Il giorno in cui verrà la tentazione Lo troviamo scritto in Efesini 6, versetto 13 e 17 In questo mondo di tenebre, morali Se osservo scrupolosamente i suoi insegnamenti Essi saranno una lampada al mio piede Una luce sul mio sentiero Versetto 105 sempre sul Salmo 119 Anche nella prova il credente troverà nella Sacra Scrittura una grande consolazione Questo mi è di conforto nell'afflizione Che la tua parola mi fa vivere Sempre sul Salmo 119 nel versetto 50 Essa è anche una sorgente di meraviglie Le tue testimonianze sono meravigliose Perciò l'anima mia le osserva Nel versetto 129 sempre sullo stesso Salmo Troverò dunque nella gioia leggere le tue testimonianze Sono la gioia del mio cuore Inoltre acquisterò saggezza La rivelazione della tua parola Illumina, rende intelligenti e semplici La tua parola mi fa vivere Questo era il titolo E questo titolo mi fa pensare davvero Come la parola di Dio ci rende vivi Come la parola di Dio ci fa vivere Perché noi viviamo per essa Perché noi acquisiamo, acquistiamo vita Grazie a quella parola Grazie all'insegnamento che il nostro Signore ci ha lasciato Grazie a far vivere Dio dentro di noi E Dio vive dentro di noi per mezzo della sua parola E allora noi lasciamoci andare nelle mani di Dio Leggendo, applicando quella parola nella nostra vita Perché solo così la parola ci farà vivere Solo vivendo per essa Solo seguendo le Come si dice, come possiamo dire Solo seguendo gli insegnamenti di Dio Questa parola può farci vivere Non possiamo sentirci vivi Solo perché vediamo alcune cose Oppure perché ci svegliamo la mattina O perché andiamo a lavorare Ma possiamo sentirci vivi Perché Dio vive in noi E allora viviamo per Lui Perché il Signore ce l'ha promesso Lui ci donerà vita E quella vita in abbondanza E allora viviamo per Dio Lasciamo che Dio dimori in noi E lasciamo che la sua parola Davvero regni nella nostra vita Vi saluto anche oggi Dio vi benedica E che possa questa meditazione Questo pensiero Che possa soprattutto lo Spirito Santo Vivere e regnare in ognuno di voi Non dimenticate Viva la parola di Dio in ognuno di noi Pace a tutti Grazie a tutti